Il Tribunale dei Riesami dell'Aquila ha fissato le prime udienze a settembre, precisamente 7 e 11, per i poliziotti della stradale di Pratola Pelignia, sospesi con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco. Le misure cautelari interdittive non seguono, infatti, lo stesso iter delle misure cautelari. Per questo i giudici aquilani si esprimeranno sul caso solo a settembre. Per un altro mese abbondante, 10 poliziotti resteranno senza pistola e distintivo. Le accuse a vario titolo sono truffa, falso ai danni dello Stato, peculato, furto, omissione ai dati d'ufficio, omissione di soccorso, interruzione di pubblico servizio. Per i difensori si tratta di un provvedimento generalizzato che non tiene conto nemmeno di alcune condotte episodiche contestate, che in alcuni casi farebbero venire meno la continuazione del reato, secondo la tesi dei legali che hanno eccepito pure l'eccezione preliminare della competenza territoriale. Per il giudice che ha colto in pieno le richieste del sostituto procuratore Stefano Iafolla, gli accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire la sussistenza di un sistema seriale di condotte attraverso le quali un gruppo di agenti di polizia stradale ha anteposto in modo ostinato al reterato e soddisfacimento dei propri interessi personali al diligente ad empimento dei doveri istituzionali, in pregiudizio dell'intero sistema di sicurezza, prevenzione e soccorso della viabilità sul territorio di competenza. In tre anni di indagine, dal 2019 al 2022, svolte tramite intercettazioni ambientali, telefoniche, GPS, telecamere, i poliziotti avrebbero abbandonato il posto di lavoro per dormire in auto, intrattenersi in alcuni esercizi commerciali, mentre erano in servizio. Approfittando della propria posizione, tre di loro avrebbero rubato bene di tenue entità patrimoniale in una stazione di servizio, altri avrebbero inoltre utilizzato auto di servizio per fini privati e sempre secondo l'accusa avrebbero omesso di svolgere rilievi in un sinistro stradale e di prestare soccorso a un veicolo in panne. La palla ora passerà a riesame, mentre prende forma anche il filone disciplinare con i procedimenti avviati, per il momento in dieci si sono dovuti spogliare della divisa.